No, 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 aspetta, 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 vabbè, vabbè, aspetta, aspetta, però tu non mi metti... Accusazione, accusazione, niente, niente. Quello che avete appena visto è uno spacciatore che ha scoperto la nostra telecamera nascosta. Siamo nel Parco delle Grohane, un'area verde a nord di Milano che si estende per 11 comuni. Qui, in mezzo al bosco, sono nate delle piazze di spaccio in stile scampia, che lavorano a ritmo continuo. Per capire cosa succede all'interno di questo bosco, ci siamo finti degli acquirenti di eroina in cerca di una dose. All'ingresso del bosco, una delle vedette che controllano l'ingresso ci blocca e inizia a perquisirci. Vuole verificare se siamo dei poliziotti. Vuole vedere lo zaino? Sì, fammi. Ma non ci ho detto niente, ho detto una bottiglia d'acqua e le chiavi. Non va bene niente. Entriamo nel bosco ed incontriamo decine di tossicodipendenti che hanno appena acquistato la loro dose. Non era che ho mezzo puntito a capressi, eh? No, grazie. Camminiamo dritti per circa dieci minuti e finalmente arriviamo dallo spacciatore. Lo spacciatore si insospettisce, non ha mai visto le nostre facce e insiste per vedere i nostri documenti. Dammi la carta di indizio, fratello. Ah, però è normale, no? Posso? Dammi la carta di indizio. Ma c'è la carta di indizio? Io, la carta di indizio. Perché? Perché non ti conosciamo? Non ti conosci? Però che bella entità mi conosci. Sì? Che lavoro fai? Eh. Sei pulizia o no? No, no, sei pulizia. Andiamo a procurare di solito. Ma oggi non si poteva proprio passare. E poi si spostrano tutti in là, mi hanno detto. Perché c'era una storia buona? Salve il numero del lavoro. Se una volta neanche entrare qua, chiamiamo e ti le porto storie al parcheggio. Ah, dove? Ok? Così serve? Bianca, dieci. Dieci lati? Sì. Vieni a pelato, porca, anche conti dieci euro di latte. Ordiniamo dieci euro di latte, ovvero della forma più raffinata e pura di eroina. Che che perde? C'è quel bosco? No. Dieci euro, quanto ce l'hai? Trento a portare fuori. Questa, fratello. Appena intascati i soldi, lo spacciatore fugge via dentro il bosco e in pochi secondi sembra essersi volatilizzato tra gli alberi. Mentre usciamo la vedetta ci blocca e inizia ad alzarci la maglia per vedere se nascondiamo qualcosa. La vedetta ci strappa la telecamera interrompendo la registrazione. Non ci resta che darcela a gambe. Occhio ragazzi, da questo momento è buono. Ora sono qua, tra i 20 e i 30 metri. Ottimo che ce ne spondano qua in mezzo. E stammi vicino che qua è meglio che mi stai vicino. I carabinieri del comando di Densio perlustrano periodicamente la zona per fermare lo spaccio. Questa è una piazza. Guarda, guarda il panchetto. Erano qua. Erano qua. Anche lì, in quella piazza è talla. Vedi, non ce la viene lì. Sono appena scappati perché ho visto una piazza e l'hanno appena abbandonata. Quindi stanno prendendo da parte vostra. Da me assolutamente a zero. Hanno visto sicuramente una gallonata di macchine. Poi c'erano anche tre persone. Quindi sicuramente si hanno appassato la voce. Prendiamo la macchina. Andiamo verso la stradina dove sono andati colleghi. Raga, sono scappati qua. Sono scappati. Certo, nei cani è bagliato di là. È un'area enorme questa, no? È difficile da controllare anche. Parliamo di una superficie, quella del Parco delle Groane, di oltre 3.400 ettari. Dove sono le piazze di spaccio? In corrispondenza della stazione Ceriano-Laghetto Groane. E un'altra zona di spaccio è stata registrata anche nel comune di Cesano-Maderno, sempre in prossimità della linea ferroviaria. Ogni giorno centinaia di persone si riversano nel Parco delle Groane per comprare stupefacenti. Arrivano da tutto il nord Italia con questi treni che fermano in due stazioni proprio nel cuore del parco. Spesso capita, riusciamo a rilevare che alcune persone scendono presso queste due stazioni per accedere poi all'area boschiva per acquistare dello stupefacente. Nel corso dell'odierno controllo abbiamo anche rinvenuto una quantità di mariana nella disponibilità di una persona che per questo sarà anche perseguita penalmente. Grazie.